La Puglia resta rossa, lieve calo ma rimane alta la pressione sugli ospedali della regione, occupato il 53% dei posti totali, accelera intanto la campagna vaccinale per i pazienti dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, non stop, dalle 14 alle 24 di ieri. Se i team di protesta davanti alla Prefettura di Bari da parte delle organizzazioni sindacali con una delegazione di lavoratori agricoli chiedono a Governo e Parlamento di modificare il decreto sostegni, intanto l'ortofrutta tra i distretti che reggono meglio alla crisi. Anniversario senza celebrazioni per i 169 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato, il capo dello Stato ricorda i 10.000 contagi nel corpo, deposta una corona in tutte le questure d'Italia. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antenna Sud. Facciamo subito il quadro, avete sentito dai titoli la massiccia campagna vaccinale che oramai è entrata nel pieno. I vaccini somministrati sino a oggi in Puglia sono oltre 740.000. Il dato è aggiornato alle prime ore del pomeriggio. Quindi nella giornata odierna sono state effettuate 27.000 inoculazioni circa. Facciamo il quadro della situazione in questo servizio. Mettere in sicurezza la fascia degli over 80, dei malati oncologici in trattamento che hanno terminato le cure negli ultimi sei mesi, dei pazienti con malattie rare e dei loro caregiver. E questa è la priorità della regione Puglia che ha messo in campo anche i medici di famiglia impegnati a vaccinare ultraottantenni non deambulanti e pazienti con elevata fragilità. Nella ASL Bari sono state superate oggi le 5.000 somministrazioni. Al Policlinico di Bari si è proceduto con quasi 3.000 appuntamenti per il completamento delle vaccinazioni ai pazienti oncologici e quelli più fragili. 42 gli ambulatori che continueranno a lavorare fino a esaurimento delle liste a tarda sera. Nella BAT 1420 le dosi somministrate sul territorio si può dire conclusa la vaccinazione degli over 80 mentre continua la vaccinazione dei pazienti oncologici. A Lecce nel nuovo centro vaccinale allestito nel museo Sigismondo Castro Mediano entro domani il vaccino agli over 80 residenti a San Cesario, L'Equile e San Donato. Nell'ASL di Brindisi proseguono le vaccinazioni per i pazienti oncologici. Al Marconi Flacco somministrate in giornata circa 400 dosi. Al Pala Ricciardi di Taranto infine vaccinati 300 disabili e i loro caregiver. 1800 le dosi somministrate in provincia di Foggia in questa seconda giornata dedicata alle sedute vaccinali straordinarie. Dunque abbiamo detto che si è stata definitivamente avviata questa campagna vaccinale ma in particolare vediamo cosa è accaduto all'Istituto Tumori di Bari con i vaccini anche in orario notturno. Potrebbe eventualmente avere un po' di febbre. Va bene? Alta la febbre? No. Alta, insomma, dipende dalla reazione che puoi avere. Nel caso in cui hai un po' di febbre va bene tachipirina. Se hai dolore va bene tachipirina. Come si dice? Meglio prevenire che curare, no? Almeno sono protetta. Il mio figlio viene seguito qui che ha un problema, sì. Ha una sindrome mielodisplastica associata con anemia di Fanconi. Quindi questo vaccino è importantissimo? Sì, sì, è importantissimo, sì. Proteggere mio marito è anche per me. Quindi lei è una familiare, una caregiver, diciamo, di suo marito che ha patologie oncologiche? Sì. Che anno è stato questo della pandemia con un marito? Un po', diciamo, un po' difficile perché la paura di contagiarlo e io vado a lavorare allora dovevo stare sempre attenta. È stata molto attenta. Sì, sì. Quindi quest'anno questa è una liberazione. Veramente. Anche perché così potrò anche andrà a trovare la mia famiglia. Ma è così importantissimo perché, insomma, avendo delle patologie oncologiche siamo più a rischio di altri pazienti, di altre persone. In questo anno di pandemia le cure che ha ricevuto sono state costanti? No, 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 costanti nella normalità. Io ho fatto il Pfizer stasera, quindi pensavo cosa fosse invece una satana passeggiata. Per lei è importante questo vaccino, vero? Sì, sì, molto, perché comunque ci aiuterà a ritornare alla libertà di quella di cui avevamo un tempo, quindi penso che dovrebbe vaccinarsi tutti. Per lei che ha questo tipo di patologia quest'anno in casa, che cosa ha significato? Per me diciamo che non è stato molto facile comunque, anche perché il Covid è un po' rallentato tutto, però adesso speriamo di ripartire più presto e basta. Speriamo di ripartire subito. Dunque abbiamo visto in queste immagini come è andata all'oncologico, ma è in lieve calo, ma resta ancora alta comunque la pressione sugli ospedali pugliesi, l'occupazione dei posti letto Covid in area medica, cioè nei reparti di malattie infettive e pneumologia, secondo il report dell'Agenzia regionale, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari è pari al 53% dei posti totali, dunque sono 13 punti percentuali oltre la soglia critica e nelle terapie intensive il tasso di occupazione è al 44%, dunque si va ben oltre il tetto fissato dal Ministero che è del 30%. Intanto vediamo il bollettino Covid delle ultime 24 ore, il dato è sempre elevato, 1800 i casi positivi, dunque il 13,4% dei test effettuati e 31 i decessi che sono stati registrati. Dal lunedì al Policlinico Riuniti di Foggia però parte la somministrazione degli anticorpi monoclonali per il trattamento Covid. Sentiamo Monica Arcadio. Dal lunedì prossimo anche al Policlinico Riuniti di Foggia entrerà in funzione una struttura dedicata alla somministrazione degli anticorpi monoclonali per il trattamento Covid, coordinata dal personale delle unità operative complesse di malattie infettive e pneumologia con l'apporto di altri specialisti del virus e discipline. La struttura sarà attiva dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì si trova nella sede centrale del Policlinico. L'accesso verrà garantito dall'ingresso posteriore del pronto soccorso. Gli anticorpi monoclonali ricordiamo sono proteine prodotte in laboratorio che presentano le stesse caratteristiche degli anticorpi prodotti dal nostro organismo e come quelli naturali legandosi al virus bloccano l'infezione di nuove cellule. In questo modo contribuiscono a ridurre la quantità di virus presente nell'organismo e aiutano a guarire più velocemente. Si tratta di un'opzione terapeutica nuova rivolta a soggetti non ospedalizzati che pur avendo una malattia lieve e moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione. Per questi soggetti a rischio attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di provata efficacia. I soggetti candidabili al trattamento saranno selezionati dai medici di medicina generale, da pediatri, unità speciali di continuità assistenziale in base a fattori di rischio definiti dall'Agenzia Italiana del Farmaco e segnalati tramite mail all'indirizzo monoclonali covid-chiocciolospedaliunitifoggia.it Voltiamo pagina, sit-in di protesta questa mattina davanti alla Prefettura di Bari delle organizzazioni sindacali con una delegazione di lavoratori agricoli. Chiedono al Governo e al Parlamento di modificare il decreto sostegni eliminando le gravi discriminazioni perpetrate a danno di un milione di braccianti che sono stati esclusi dal diritto a qualsiasi sostegno. Antonio Bucci. Stiamo insistendo con il Governo affinché faccia tutto quello che è necessario, sono soprattutto dei lavoratori stagionali, su molte di queste abbiamo delle difficoltà proprio a far passare il concetto, ma va sostenuta perché è una categoria fragile, grazie a loro riusciamo ad avere ancora frutte, ortaggi e altre cose sulle nostre tavole, non si capisce perché il Governo non tenga conto di questo. A livello regionale abbiamo delle difficoltà, ma il fatto che l'assessore Pentasuglia sostenga questa nostra manifestazione e si è impegnato non solo a interlocuire con il Governo, ma a fare azioni positive per quanto riguarda tutto il comparto agricolo per noi è segno di speranza per il prossimo futuro. Oggi siamo qui con una delegazione di lavoratori per chiedere al Governo di modificare il DL sostegni che di fatto penalizza la categoria di braccianti. Sono state l'unica categoria di lavoratori stagionali che sono stati escluse da tutti i provvedimenti di sostegno, quindi nessuna misura è stata prevista per questa categoria. Per questo chiediamo al Governo nella fase di conversione in legge del DL di modificare questo atto legislativo, altrimenti continueremo a protestare e a manifestare per sostenere i braccianti agricoli che tanto hanno dato sulle tavole degli italiani garantendo produzioni attraverso il loro lavoro. Lutto nel mondo della politica tarantina e pugliese a causa delle complicanze del Covid è morta Rossana Di Bello, 64 anni, sindaco di Taranto dal 2000 al 2006 e assessore regionale di Forza Italia a metà degli anni 90. È morta nella sala rianimazione dell'ospedale Moscati dove era stata ricoverata il 24 marzo scorso, lascia il marito e la figlia Claudia. Dopo che si è diffusa la notizia in tanti nel corso della giornata hanno espresso il loro cordoglio anche tramite i social network. Nel 93 Rossana Di Bello fondò a Taranto il primo club pugliese di Forza Italia di cui nello stesso anno diventò presidente. Dopo Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce nel 1998, Rossana Di Bello è stata eletta il secondo sindaco donna in Puglia, primo sindaco donna nella storia di Taranto. Venne eletta la prima volta nel 2000 e fu poi riconfermata nel 2005. Il 18 febbraio del 2006 in seguito alla condanna in primo grado a un anno e quattro mesi per abuso di ufficio e falso ideologico nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento della gestione dell'inceneritore alla società termomeccanica si dimise dalla carica di sindaco ma fu poi assolta in appello. Veniamo adesso all'anniversario senza celebrazioni per i 169 anni della fondazione della Polizia di Stato. Il capo dello Stato ricorda i 10.000 contagi nel corpo, deposta una corona in tutte le questure d'Italia. Sentiamo. Signor questore, un suo messaggio per questo anniversario importante per la Polizia di Stato, mutuando quello che è il vostro slogan da qualche tempo a questa parte, ovvero esserci sempre. Mi permette intanto di dire e sottolineare l'importanza di questo anniversario, che è il 169esimo per la Polizia di Stato, ma anche il 40esimo dell'entrata in vigore della legge 121 dell'81, che ha costituito un'assoluta rivoluzione nel sistema della gestione della sicurezza del nostro Paese. Legge dalla quale è venuta fuori la nuova Polizia di Stato, una Polizia di Stato dell'esserci sempre, una Polizia di Stato che vuole essere accanto alla gente, vicino alla cittadinanza, alle collettività, per cercare di capirne meglio, il più velocemente possibile, quelle che sono i bisogni, le esigenze per poter intervenire nella soluzione dei problemi dei cittadini. Io penso che questo sia il messaggio che vogliamo fare arrivare da questa festa della Polizia, quello di una Polizia di Stato al passo con i tempi, che sia sempre più moderna e che abbia un approccio di sempre maggiore vicinanza al territorio e ai suoi bisogni. Torniamo a parlare della campagna vaccinale. Agevolazioni per chi si reca negli hub, nei centri che sono stati allestiti nei vari centri. Può farlo anche con il monopattino in maniera del tutto gratuita. Parliamo chiaramente di Bari come di altre città italiane e sono rivolti soprattutto a quando la campagna vaccinale interesserà i più giovani. Sentiamo. Corse gratuite in monopattino o bici elettrica per andare a fare il vaccino. È l'iniziativa della società Elbiz in tutte le 15 città italiane, tra cui Bari, dove è attivo il servizio di sharing. Elbiz, in accordo con la struttura commissariale per l'emergenza epidemiologica, offre così il suo sostegno per la campagna vaccinale in corso contro l'epidemia Covid-19, con centomila corse gratuite a tutti coloro che dovranno recarsi nelle apposite strutture per ricevere il vaccino. Ogni utente potrà avvalersi di due corse gratuite da 20 minuti con un mezzo elettrico sharing per andare al centro vaccinale e tornare a casa. Per poter usufruire del servizio attivo fino al 30 settembre 2021 in previsione dell'apertura anche alle fasce di età più giovani, sarà sufficiente scaricare l'app di Elbiz. Dal SAP il sindacato che si occupa di carceri arriva il grido d'allarme, dall'organizzazione ai test a tappeto passando per la proposta di realizzare un hub pugliese. Il SAP ha scritto più volte al Presidente della Regione, all'assessore alla Sanità e ai vari prefetti ma senza avere risposte. Sentiamo uno stralcio dell'intervista fatta al segretario regionale. La maggior parte degli istituti della Regione non sono attrezzati adeguatamente per contrastare il Covid. Hanno fatto in ogni carcere, hanno fatto delle sezioni verdi, gialli, blu, rosse che sono servite, sono andate bene finché i positivi erano quasi niente, quindi diciamo normale amministrazione. Adesso che la situazione purtroppo sta diventando un po' più delicata, notiamo che questi presidi servono poco a niente. Faccio l'esempio, l'altro giorno da San Severo, hanno portato di tutta fretta proprio a Taranto una ventina di detenuti, fra cui alcuni positivi, in una situazione non proprio di sicurezza anche per il personale che li ha tradotti. E qua era molto semplice. Abbiamo a Taranto un padiglione con 200 posti, nuovo, addirittura c'è un ingresso diverso dal carcere, dalla struttura penitenziaria, anche se si trova nello stesso complesso. Bene, bastava attrezzare questa struttura con qualche medico, qualche infermiere, chiaramente tenendo presente di come ci debba lavorare in un ambiente Covid, e mettere là tutti i detenuti della Regione che sono risultati o risultano positivi al Covid. Facendo questo si risparmierebbero medici, infermieri che vengono impegnati in ogni carcere, ma la cosa più importante è che si eviterebbero anche quei ricoveri di detenuti Covid che in ambienti diciamo civili possono mettere paura, ma tanta paura, non solo a medici, infermieri, ma anche agli altri degenti del reparto stesso. Penalizzati oltremodo dalle decisioni del Governo, è questo il grido dei commercianti che anche a Castellana Grotte sono scesi in piazza nell'ambito dell'iniziativa nazionale Il Futuro Non Si Chiude per protestare contro le chiusure nelle zone rosse. Sentiamo Flavio Insalata. Penalizzati oltremodo dalle decisioni del Governo, è questo il grido dei commercianti che anche a Castellana Grotte sono scesi in piazza Garibaldi nell'ambito dell'iniziativa nazionale Il Futuro Non Si Chiude per protestare contro le chiusure in zona rossa. La richiesta, promossa dall'ASCOM, associazione degli operatori del commercio, turismo e servizi, è quella di riaprire rispettando i protocolli e lavorando in sicurezza. A scendere in piazza titolari di bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, calzature, articoli da regalo, gioiellerie, commercianti ambulanti del settore non alimentare e tutto il comparto del turismo, alberghi, agenzie di viaggio e bed and breakfast, rischiano di chiudere decine di attività. La denuncia del Presidente Gianni Mongelli. Noi scendiamo in piazza solo per dimostrare al Governo che purtroppo siamo in una situazione di non ritorno. Diciamo che i ristori sono stati e sono insufficienti. Peraltro abbiamo necessità di ricevere un'aiuto da parte dello Stato e non è chiudendo le attività che questo si possa effettuare. È necessario che siano comunque adeguati i codici a teco per le aperture dell'allegato 23, in quanto diciamo che la maggior parte dei negozi rimangono aperti tranne alcune categorie. Diciamo che le categorie essenziali sarebbero tutte tranne alcune. Quindi di conseguenza si crea questa ingiustizia nei confronti dei commercianti. Export è il termometro della crisi dei distretti del mezzogiorno. Puglia con il segno meno in questa situazione. Meglio degli altri ci sono i settori agroalimentare e meccatronica. Sentiamo. E l'export il termometro della crisi dei distretti del mezzogiorno dopo un anno di pandemia a scattare la Polaroid e il report targato intesa che vede nell'agroalimentare largine attraverso il quale limitare i danni a sud, specie per le buone performance di Campania e Sicilia che chiudono l'anno con il segno più davanti. E la Puglia, segno meno sì per il 2,2%. E non a caso tra quelli che reggono di più agli scossoni dei mercati ci sono i settori dell'ortofrutta del Barese e del Foggiano, olio e pasta del capoluogo, grazie alle vendite verso le principali mete extraeuropee. Bene, ma solo per uno 0,2% guadagnato la meccatronica dello stesso territorio. A pesare sulla flessione invece sono i forti cali registrati soprattutto dai distretti del sistema moda a soffrire di più calzetteria e abbigliamento del Salento che fa segnare un tonfo di quasi 55 punti percentuali. Figlio si intende di un calo trasversale e rigorosamente diffuso su tutte le principali piazze europee. E non va meglio alle calzature di Casarano che pure beneficiavano dell'expload di vendite del 2019. Perde 14 punti percentuali invece il mobile imbottito della Murgia che sconta il passo indietro nelle esportazioni in Regno Unito e Francia in primis. In compenso, segnali di speranza arrivano dalla ripresa di questo comparto registrata nel terzo e quarto trimestre dell'anno appena trascorso. Al centro il tema della ripresa del mezzogiorno e dunque di recovery plan. si parlerà nei seminari organizzati dal Partito Democratico pugliese che prenderanno il via a partire dalla prossima settimana per quella che è stata definita una campagna di ascolto ma che si concluderà con un documento che il PD presenterà al Partito Nazionale. Parte lunedì un ciclo di seminari dedicati al piano nazionale di ripresa e resilienza organizzati dal Partito Democratico pugliese. Si tratterà, riferisce in una nota, il segretario regionale Marco Lacarra di una vera e propria campagna di ascolto che si aggiunge al lavoro già avviato dal PD pugliese in merito alle azioni che grazie al Next Generation potranno essere messe in campo per la ripresa del mezzogiorno dopo la pandemia. In diretta sulla pagina Facebook del PD Puglia si susseguiranno incontri che vedranno la partecipazione di esponenti politici ed esperti. Si comincia lunedì 12 aprile con l'onorevole Francesco Boccia e il professor Gianfranco Viesti. Mercoledì 14 al centro del dibattito ci saranno invece i temi della parità di genere con le relazioni di Anna Maria Candela e della consigliera del presidente Titti De Simone. Altro appuntamento importante sarà quello di lunedì 19 riguardo a uno dei pilastri del piano nazionale ossia la transizione digitale. In questa occasione interverranno la sottosegretaria la senatrice Assuntela Messina e il professor Giuseppe Pirlo. Il PD Puglia di concerto con il gruppo consigliare ha detto il segretario regionale Marco Lacarra sta lavorando a un documento di proposte che verrà portato all'attenzione del presidente della regione e del partito nazionale. Protocolli per i vaccini alle imprese turistiche ricettive ma anche Green Pass sul modello europeo. In regione alcune proposte proprio a sostegno del settore. Intanto dall'Istat emerge la crisi nera dell'anno appena trascorso. Viaggi degli italiani al minimo storico. Lavorare su percorsi regionali per vaccini a quanti sono impegnati nelle imprese turistiche ricettive della Puglia dopo l'accordo siglato a Roma tra le parti sociali e i ministeri che fissa le linee guida con i requisiti minimi per effettuare la campagna di somministrazione in azienda. E poi una mozione che impegna giunta e governatore all'istituzione di un Green Pass per coloro che abbiano già ricevuto le dosi anti-Covid immediatamente operativo in vista dell'estate. Sono alcune delle proposte che si muovono in via gentile a supporto del comparto. Nel primo caso è firmata Francesco Paolicelli, presidente della Commissione a tema. Obiettivo stipulare convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private tanto per la campagna vaccinale quanto per lo screening sui luoghi di lavoro, soprattutto per quanti non fossero in grado di assumere l'onere organizzativo di un piano di tale portata. Nel secondo è la pattuglia della Lega nel parlamentino a tornare in pressing. Succede nelle stesse ore nelle quali è l'Istat a scattare la fotografia della crisi più nera della storia del settore. I viaggi degli italiani nel 2020 infatti hanno toccato il minimo storico, 37 milioni e 527 mila, con 231 milioni e 197 mila per nottamenti, meno 44,8% per le vacanze, meno 67,9% per il business. Sicilia e Sardegna accelerano e pensano persino di comprare i vaccini di tasca propria pur di ripartire. Il D-Day delle aperture in compenso non c'è, ma si guarda agli altri paesi come Francia e Stati Uniti. Il ministro Massimo Garavaglia ipotizza persino il 2 giugno. Se sarà festa davvero anche per gli operatori però è ancora presto per dirlo. Dal turismo all'agricoltura il crollo delle temperature di questi giorni ha messo a rischio i raccolti dopo un lungo periodo durante il quale il clima mite ha favorito il risveglio della vegetazione. La primavera sotto zero taglia i raccolti in fumo mandorle e ciliegie. C'è nel Barese, vigneti nel Salento, carciofi a brindisi e asparagi KO nel Foggiano. Gli effetti devastanti delle ondate di gelo sulle coltivazioni agricole hanno indotto Coldiretti ad attivare le richieste dello stato di calamità naturale. Per proteggere i raccolti a Terlizzi sono stati accesi falò notturni per riscaldare i mandorle in fiore, mentre a Noci e Putignano è stata spruzzata acqua sui ciliegi per creare un velo protettivo contro il gelo. Lo shock termico non ha risparmiato gli alberi in fiore e le piantine non protette. KO per le ciliegie e bigarrò per le ferrovie si stima un danno pari a circa il 40%. Nel Tarantino compromessi gli alberi di cachi bruciati dal gelo. Il brusco abbassamento delle temperature ha compromesso la produzione di ciliegie, albicocche, pesche e mandorle, ma anche patate, ortaggi, grano precoce e carciofi. Nelle province di Bari e della Bat si contano danni a Conversano, Gioia del Colle, Noci, Bisceglie, Bitonto e Terlizzi. Danni anche ai mandorle in fiore completamente bruciati e danni ai vigneti. Tra Barletta e Canosa compromessi raccolti per gli alberi da frutto come peschi e albicocchi. Colpite duramente anche le viti nei comuni di Spinazzola e Poggiorsini a risentire dell'ondata di gelo e il grano. Nel Foggiano il bilancio parla del 100% di danno per i vigneti a spalliera e una perdita del 50% sui frutteti, oltre alla compromissione degli ortaggi. Nel Brindisino si registrano danni ingenti alla produzione di carciofi rimasti cristallizzati dal gelo. In Salento ad andare in fumo meloni, angurie e melanzane. Nel Tarantino bruciati interi vigneti di varietà precoci di chardonnay e uva da tavola tra manduria, sava, avetrana e grottaglie. Gelati gli alberi di cachi con la produzione azzerata. Questi i danni all'agricoltura, ma domani si celebra la giornata nazionale del mare. Feder Agri Pesca, rivolgendosi a professionisti e pescatori sportivi, ricorda i divieti di pesca per alcune specie ittiche per consentire proprio il ripopolamento del mare. Niente spaghetti con le telline fino al 30 aprile, ma nemmeno i cannolicchi banditi da inizio di questo mese fino al 30 settembre in Adriatico. Non sono solo le stagioni a dettare il menu ittico sulle nostre tavole, ma anche i divieti di pesca per tutelare molte specie. In occasione della giornata nazionale del mare dell'11 aprile, Fed Agri Pesca Conf Cooperative ha indicato il calendario aggiornato degli stop delle principali specie ittiche in commercio. Se per i datteri di mare il divieto di pesca e vendita vale tutto l'anno, per i tartufi il fermo va dal 1 giugno al 31 luglio, mentre è solo dal 2020 che è vietata in tutta Italia la pesca dell'anguilla dal 1 gennaio al 31 marzo. Anche per crostacei come Aragoste, Astici e Granseola è prevista una sospensione a partire dal 1 settembre fino a fine febbraio. Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato dal 1 al 31 marzo o in alternativa dal 1 ottobre al 30 novembre. Maglie ancora più strette per il tono rosso, visto che in questo caso si deve rispettare il calendario e il sistema di cattura. Con il sistema a palangaro la pesca va tutto l'anno, mentre per l'accerchiamento dura appena un mese, da fine maggio a fine giugno. Per Sardine e Acciughe sono due i mesi di fermo in Adriatico, mentre per i ricci di mare in Sardegna è dal 16 novembre 2020 al 17 aprile 2021. L'importante è che le regole vengano rispettate da tutti, professionisti e pescatori sportivi, per consentire il ripopolamento nel mare, come precisa Fedagri Pesca. Nel regionale abbiamo parlato del 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per Bari arriva il bilancio di quest'ultimo anno. Ce lo fa Monica Arcadio. Da marzo 2020 a febbraio 2021 la Polizia di Bari ha arrestato 484 persone, 218 delle quali per reati di droga, sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti, soprattutto marivane, denunciato altre 2.508 persone. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel bilancio annuale fornito dalla questura in occasione del 169esimo anniversario della Fondazione del Corpo. In un anno i poliziotti baresi hanno ricevuto segnalazioni tramite il sistema Yolpol e conseguentemente indagato anche su 48 episodi di bullismo e 29 di violenza domestica. La Polizia Postale, attraverso il monitoraggio della rete internet, ha proceduto a 1.364 richieste di inserimento in blacklist di siti web per pedopornografia online e denunciato 493 persone per pedofilia e e-commerce illegale. Dall'inizio della pandemia, 263 poliziotti delle province di Bari e Barletta andiatrani contagiati dal covid, 58 dei quali attualmente positivi, 699 quelli finiti in quarantena. In poco più di un anno, secondo quanto emerge ancora dal report, sul personale dipendente della questura del capologo pugliese sono stati eseguiti quasi 3.000 tamponi e all'8 aprile somministrate 2.374 dosi da medici e infermieri dell'ufficio sanitario della questura di Bari a polizia di Stato, 1.468 vaccinati, dipendenti della prefettura di Bari, 138 e vigili del fuoco della provincia, 511. Andiamo adesso a Canosa, dove il Rotary Club dona 13 tablet agli studenti meno fortunati della scuola Bovio Mazzini. Vediamo. 13 tablet per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Bovio Mazzini di Canosa di Puglia nella BAT. L'iniziativa è del Rotary Club Puglia e Basilicata, 546 in totale i tablet nell'ambito di un lodevole progetto che vede insieme l'USAID, Agenzia Statunitense per la Lotta alla Povertà Globale, e di Rotary International per vincere insieme l'emergenza. Una delle linee di sostegno tracciate passa proprio dalla scuola tra le più sofferenti di questa pandemia. C'è stata in pratica una donazione da parte di USAID di 5 milioni di dollari che saranno devoluti però in 13 distretti italiani. A noi il distretto 21-20 spettano tre tranche da 100 mila dollari. E in questa prima tranche ovviamente abbiamo preso in considerazione l'istruzione, quindi la scuola, perché pensiamo la scuola sia il luogo dove comunque le disuguaglianze sociali vengano fuori molto frequentemente. Saranno affidati dati regalati a dei ragazzi, dei bambini insomma, in difficoltà sicuramente di natura economica, che non possono appunto seguire le lezioni adeguatamente, bene, da ora in poi hanno questa possibilità. La scuola ringrazia i Rotary non soltanto per l'importante gesto solidale, ma anche per il nobile messaggio che si consegna ai ragazzi, affermando i valori veri della solitarietà e dell'avvicinanza, in questo caso alla scuola e ai meno fortunati. Io sono veramente onorata e veramente felice di questa donazione, perché ci sono delle difficoltà obiettive e oggettive dei ragazzi nella connessione, soprattutto nell'avere a disposizione dei dispositivi per poter seguire la didattica a distanza. Quindi poterli dare, non solo in comodato d'uso, ma poterli proprio donare significa dare a loro anche un'opportunità per proseguire poi gli studi con una certa tranquillità. Si chiama Chiara Pia Aurora, la violoncellista tranese tra i sette giovani protagonisti di La Compagnia del Cigno. La fiction ha la sua seconda stagione che domani sera arriva su Rai 1 per sei nuove puntate a replicare il successo della prima stagione. Noi l'abbiamo intervistata. Sentiamo Antonella Fazio. Signori! Due violini, due pianoforti, oboe, percussioni, violoncello, musicalmente non hanno senso. Diciamo un esperimento sociologico. Chiara Pia Aurora interpreta Sofia nella Compagnia del Cigno, la prima stagione ma anche la seconda stagione che parte proprio questo fine settimana, questa domenica, su Rai 1, questa fiction ride al grande successo nella prima stagione del gennaio 2019 e adesso si replica attrice e violoncellista. Come coniughi entrambe le cose? Coniugo entrambe le cose con molta passione, semplicemente, con molta passione e con molta perseveranza che è un ingrediente che secondo me è fondamentale durante la crescita di un ragazzo che vuole fare delle proprie passioni una professione futura. Quindi coniugo entrambe le cose con tanto, tanto, tanto amore anche e diciamo che sono un po' l'obiettivo della mia vita entrambe. Mi piacerebbe tenere un piede in entrambe le scarpe, poter fare sempre quello che mi piace nella vita, quindi cercare di riuscire a farle entrambe sarebbe sicuramente un grande traguardo per me. Chiara, come si è aperta questa opportunità nella tua vita? Ce lo racconti? Sì, diciamo che rispecchia un po' il detto tutte le cose più belle della vita nascono per caso perché io ho mandato l'email per il provino della Compagnia del Cigno un giorno dopo il mio compleanno, quando ho compiuto 17 anni, quindi ero davvero piccola. Però mi ricordo che ai tempi, come diciamo succede per quasi tutti i lavori della RAI, non sapevo bene di cosa si stesse parlando perché ovviamente non ti danno delle informazioni precise e dettagliate riguardo ciò a cui stai partecipando. Quindi io mi ricordo che ho mandato questa email perché una mia amica mi aveva mandato su WhatsApp uno screenshot di questa pagina web di casting dove cercavano dei ragazzi musicisti che venissero da tutta Italia con un livello medio-alto. La prima stagione è andata benissimo, 25% di share, come l'hai vissuta? La prima stagione l'ho vissuta con tantissima emozione, in maniera molto spontanea, in realtà è stata molto molto travolgente, devo dire, come prima esperienza perché mi rendo conto che ha avuto veramente una grande risonanza, soprattutto nei giovani, ma in realtà nel pubblico di qualsiasi età, devo dire. È arrivata nei cuori delle persone, è entrata nelle case delle persone, le persone sono riuscite ad entrare nella nostra storia in quello che stavamo raccontando. Io ero molto spaventata, mi ricordo che ero molto spaventata, molto emozionata, come lo sono ora perché pensare che comunque domani ricomincia un nuovo capitolo di questa avventura e che la gente lo potrà finalmente vedere perché noi praticamente il 90% del lavoro l'abbiamo già fatto, è molto emozionante per me. Speriamo che vada bene anche questa seconda stagione, che piaccia come la prima, più della prima, che possa nuovamente catturare l'attenzione delle persone perché è una storia che parla veramente di tanti temi belli, parla dell'amore, della speranza, dell'amicizia, tutti i temi che non possono che farci bene in questa situazione che è molto particolare per ognuno di noi, proprio a livello personale. E quindi per Scaramanzia non diciamo nulla, però chi lo sa, speriamo bene. Magari ci rivediamo anche l'anno prossimo. Bene, questo era l'ultimo servizio, vi auguro un felice fine settimana, appuntamento con l'informazione nuovamente lunedì alle ore 7. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.